Si tratta di un reparto di eccellenza, forse uno dei migliori del centro-sud, quello di cui stiamo parlando, devo dire c'è stato uno sforzo notevolissimo, uno sforzo che per il vero non ha riguardato solo il reparto di chirurgia vascolare qui al di Venere, perché questo è un ospedale molto vecchio che è stato però quasi completamente ristrutturato e ovviamente tutto questo consente non solo un trattamento più civile e anche umano dei pazienti, ma soprattutto dà maggiore sicurezza e tranquillità anche a tutti gli operatori ai quali io debbo la mia gratitudine. Voi dovete sapere, lo dico ancora una volta, che la Puglia è risalita nei livelli essenziali di assistenza, dal ultimo penultimo posto ai primi 7-8 d'Italia, forse insomma con uno sforzo che avete fatto voi, perché quando le cose vanno male è giusto che se la prendano con me, ma quando le cose vanno bene il merito è vostro, non è mio. L'impegno che stiamo prendendo è quello di dotare poi queste grandi novità, noi stiamo inaugurando decine e decine di reparti nuovi in tutta la Puglia, tant'è che è una continuazione di inaugurazioni, però ci serve adesso il personale. Il piano di riordino, lo dico ancora una volta, è servito soprattutto ad avere le autorizzazioni a fare le assunzioni. Quindi tutti quelli che si lamentano del fatto che abbiamo riconvertito, non è stato chiuso nessun ospedale, Se abbiamo riconvertito qualche ospedale per acuti in lungodeggenza o per cronicità, lo abbiamo fatto per riutilizzare meglio il personale e per avere le autorizzazioni dal Ministero dell'Economia e Finanze a fare nuove assunzioni, per abbattere le liste d'attesa e sollevare la fatica nelle corsie. Peraltro tenere insieme i pazienti cronici o lungodeggenti con i pazienti acuti è una cosa proprio ingiusta per tutte e due, per tutte e tre le categorie. È chiaro che quando non ci sono gli hospice, quando non ci sono le lungodeggenze, quando quindi non si convertono gli ospedali piccoli, inutili, in altre strutture, finisce per avere una persona appena operata che ha tutta la voglia di vivere e di andare avanti vicino ad una persona che sta terminando la vita perché non avendo un hospice non sai dove metterlo. Con anche, devo dire, caratteristiche professionali diverse perché la forza che alle volte ci vuole per stare vicino a noi tutti al termine della vita è una forza che non tutti hanno e quindi è anche giusto che il personale sia utilizzato secondo la propria vocazione. Grazie a tutti. Io ho fatto solo l'inaugurazione qua, non sono venuto a montare le porte, a rifare i pavimenti, a rimettere, a comprare le macchie. Non ho fatto tutto alla ASL e ha fatto tutto il direttore. Certo, io ovviamente li devo sempre tenere sulla corda, li devo sempre dire che si può fare meglio, però oggi sono veramente contento. Un reparto che è stato ideato, progettato e quindi concepito per erogare delle procedure ad alta complessità sulla orta torace, cattora codominale, tronchi sovraortici e periferia. Questo è un messaggio molto importante che vorrei che giungesse a tutta la Puglia, ma soprattutto alla gente comune perché non c'è più bisogno di prendere le valigie, andare al nord, perché io penso che oggi in Puglia ci sono delle strutture e del personale medico in grado di erogare un'assistenza non inferiore a quello delle strutture del centro nord.